musica Ti sei messo davanti? Chi è il 39? Allora lui! Ma no, esce il 22 e entra il 39 ma non il nostro Se il 22 deve entrare è nostro Mi dispiace per Cassano, ogni volta che esce mi... Ma non è neanche fatto la segnalazione con le cose Vedi che lo sta dicendo Stramaccioni mi sa Non doveva... Giusto, giusto, giusto E non hanno fatto quella con la... No, è vero, infatti Non ho visto questa la tabella E Ramiro non è ancora Grazie 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 Grazie